per migliaia di anni l'aglio è stato usato come cibo e come medicinale la gente credeva che l'aglio potesse allontanare i vampiri curare la peste bubonica e molto altro ancora oggi ad esempio impareremo cosa si usa per fare il digiuno dell'aglio e abbattiamo un paio di miti la testimonianza di oggi è di una mia amica che porta sempre l'aglio nella sua borsa tutti i giorni per prenderlo la mattina a stomaco vuoto visto che fa sentire meno il freddo e apporta molta più energia il digiuno dell'aglio recenti ricerche scientifiche hanno dimostrato che il consumo regolare di aglio elimina i batteri dal nostro corpo oltre ad essere un potente antibiotico naturale con questo ortaggio profumato si possono avere anche numerosi altri grandi benefici per la salute e la vita in generale ecco alcuni di questi benefici 1 aiuta nella perdita di peso mangiare un paio di baccelli d'aglio a stomaco vuoto per la perdita di peso è estremamente benefico l'aglio contiene componenti che aiutano a bruciare i grassi cattivi ed eccessivi nel corpo gli studi di numerose riviste e nutrizionali sostengono anche che l'aglio può accelerare il metabolismo in generale 2 aiuta a controllare lo zucchero nel sangue l'aglio è un ingrediente estremamente utile in una dieta a basso contenuto di zucchero è ricco di un composto noto come allicina questo componente è noto per il controllo e l'abbassamento dei livelli di zucchero nel sangue l'allicina è ulteriormente liberata quando si schiaccia o si taglia un baccello d'aglio mangiare i baccelli di aglio crudo schiacciato due volte al giorno può aiutare immensamente a migliorare i livelli di zucchero 3 combatte la depressione l'aglio è un ottimo ingrediente per la salute fisica e mentale l'aglio è noto per le sue proprietà naturali di miglioramento dell'umore quando viene consumato crudo e a stomaco vuoto è anche noto che l'aglio è ottimo per bilanciare le sostanze chimiche nel nostro corpo e questo include le sostanze chimiche del cervello la depressione è causata da uno squilibrio delle sostanze chimiche del cervello ecco perché l'aglio può aiutare a combattere la depressione 4 previene il cancro l'aglio è ricco di proprietà anti infiammatorie antibiotiche e anti cancerogene quando lo si mangia crudo a stomaco vuoto per prima cosa al mattino può aiutare a prevenire alcune forme di cancro ciò è in parte dovuto anche al fatto che l'aglio è molto ricco di disintossicanti e antiossidanti 5 combatte le infezioni come già detto l'aglio è un ottimo antibiotico naturale anche se non sostituisce i farmaci l'aglio mangiato crudo ogni giorno può migliorare le funzioni dei farmaci mangiarlo regolarmente aiuta anche a tenere a bada le infezioni per lunghi periodi di tempo 6 riduce l'ipertensione l'aglio crudo a stomaco vuoto è noto per aiutare a combattere i sintomi dell'ipertensione i medici raccomandano di mangiare aglio a stomaco vuoto ogni giorno come misura preventiva per coloro che possono essere a rischio di ipertensione 7 purifica il sangue mangiare aglio a stomaco vuoto è ottimo per il sangue gli agenti disintossicanti dell'aglio aiutano a rimuovere le impurità del sangue e possono migliorare la salute dei vasi sanguigni gli antiossidanti le proprietà antibiotiche e le proprietà anti infiammatorie contribuiscono alla purificazione del sangue 8 aiuta la digestione l'aglio è ricco di antiossidanti e di prebiotici e probiotici questi componenti contribuiscono a migliorare la salute dell'intestino l'aglio ha anche minerali e vitamine che svolgono un enorme ruolo nel migliorare la salute del fegato della vescica e dei reni questo funziona in tandem con le proprietà antistress dell'aglio che fermano l'aumento eccessivo di acido nello stomaco per garantire un tratto digestivo più pulito e più efficiente 9 migliora la salute dei polmoni l'aglio aiuta a liberare le vie respiratorie il consumo regolare di aglio può combattere pericolose malattie polmonari come l'asma la bronchite la pertosse e la tubercolosi aiuta anche ad alleviare la congestione polmonare e migliora i livelli di ossigeno nel corpo aggiungiamo il fatto che ha proprietà antibiotiche e anti infiammatorie e l'aglio diventa il cibo perfetto anche per il comune raffreddore grazie a tutti i nostri spettatori